Secondo il rapporto OXA in Italia la spesa per la sanità è pari al 9,6% del PIL, contro una media europea del 10,9%, ovvero 550 euro in meno a persona. Forse anche per questo gli italiani hanno speso 37,1 miliardi di euro nel 2021 per prestazioni sanitarie pagate direttamente da loro al di fuori dell'SSN. Per il nostro paese migliorare il proprio sistema sanitario nazionale è dunque una strada senza uscita? Non necessariamente, specie prendendo in considerazione la possibilità di affiancare ai servizi del sistema sanitario nazionale quelli offerti dalla sanità privata, convenzionandoli poi nell'SSN. È un'opzione però per le casse dello Stato certamente più costosa. Alcuni esempi, per una radiografia al torace privatamente la media arriva fino a 150 euro e per le visite specialistiche le cifre salgono anche a varie centinaia di euro. I numeri sono ancora più elevati quando si parla di ricoveri e di interventi chirurgici. Per un intervento di microchirurgia si arriva a 6.000 euro, per un intervento toraco-polmonare si toccano i 50.000 euro. Che fare quindi? È utile valutare le opportunità offerte dalla sottoscrizione di una polizia assicurativa sulla salute. Al di là del tema strettamente economico, la questione si pone innanzitutto su un piano di tutela più efficiente della salute, visto che, tra le altre cose, un'assicurazione consente di attivare servizi difficilmente accessibili in modo diverso, perché magari troppo costosi o semplicemente non conosciuti. Per esempio, è possibile accedere a network di strutture selezionate e avere percorsi di prevenzione personalizzati o assistenza medica telefonica 24 ore su 24. In un'ottica di complementarità tra il sistema pubblico e quello privato, molte realtà aziendali grandi e piccole stanno studiando meccanismi di tutela per i dipendenti, potenziando i servizi welfare. Ciò avviene spesso ricorrendo a partnership con compagnie assicurative sul fronte dell'offerta di prestazioni salute. E anche il governo spinge in questo senso, prevedendo sgravi per le imprese che vanno incontro alle necessità dei lavoratori. Per esempio, il più recente decreto aiuti alza da 600 a 3.000 euro la dettassazione fiscale contributiva sui fringe benefit, ovvero le voci addizionali alla retribuzione corrisposte al lavoratore sotto forma di beni o servizi, compresi quelli assicurativi.